Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Archevi Parla e un anno fa è uscita Fireball Z. Fa un pochino strano perché Cold War alla fine è appunto uscito più di un anno fa, ma sembrano passati in realtà 20.000 anni e allo stesso tempo 2 secondi. È un pochino per tutte quante le mappe di zombie che si passa del tempo, ma un pochino non ce ne accorgiamo. È stato comunque un periodo veramente strano per Cold War e proprio per riguardo volevo discutere della differenza per quanto riguarda la distribuzione dei contenuti. Cold War è partito con soltanto The Machine e The Dopes per quanto sia secondario e abbiamo aspettato fino al 4 febbraio per avere Fireball Z, la seconda mappa a round. E allora se ricordo bene la season 1 reload della season 1 durò ben 3 mesi, quindi un periodo veramente lunghissimo in cui continuerà a giocare a zombie, quello base, fare magari tutte quante le sfide stagionali, il battle pass e praticamente all'ultimo mesetto di season, bam, arriva una mappa a round che abbiamo nerdato in maniera non stop, proprio una cosa incredibile. In più c'era easter egg, wonder weapon, high round, tutto si poteva fare. E letteralmente poche settimane dopo, col lancio della stagione 2, è arrivato Epidemia. Sappiamo tutti quanti che Epidemia con tutti quanti i suoi pregi e difetti ci ha magari tolto la possibilità di un'altra mappa a round, ma ci ha fornito comunque diversi contenuti e qualcosa di alternativo, come dice la Trek, uno zombie a larga scala. È stato un periodo di circa un mesetto e mezzo in cui, tra Firebase, tra Epidemia e altro, una mola di contenuti in un tempo così ristretto veramente incredibile. Uno dei pochi periodi di Cold War in cui c'era addirittura troppo da fare, tra Firebase, l'easter egg, fare i round, le sfide, parte la stagione 2, quindi altre sfide, battle pass, altre armi, operatori, Epidemia, veramente tantissime cose, un periodo davvero fantastico. Controbilanciato poi da tantissimi mesi con contenuti soltanto di Epidemia. Se ricordo bene Mauer è uscito durante la stagione 4 Reloaded o qualcosa del genere, quindi 3 season intere praticamente senza nessuna mappa a round, e soltanto contenuti per Epidemia, che va bene tra altre regioni, easter egg, tutte le altre season, quindi armi, battle pass e altre sfide, ma periodi veramente vuotissimi. Questo è un attimo per come sempre dire, tutti i contenuti andrebbero ben distribuiti, non per forza buttare tantissima roba tutta in un mese, per poi fare 3 mesi di praticamente niente. Epidemia comunque ha portato il vantaggio del sì, i contenuti che uscivano era soltanto per quella modalità, che era qualcosa di aggiuntivo e non mappa a round, ma io ho sempre pensato, se non fosse stato per Epidemia, diverse season, sia a lancio che Reloaded, non avremmo avuto praticamente niente. Va bene che magari avere soltanto una regione, qualche piccola aggiunta, era poco, ma immaginate senza Epidemia aspettare soltanto mappa a round, magari per dire Firebase in season 1 Reloaded, la app dopo buttiamo in season 3 Reloaded, qualcosa del genere. Tutto il lancio di season 2, season 2 Reloaded e season 3, tutto praticamente senza niente di zombie, a parte i contenuti aggiuntivi di tutto il gioco, quindi armi, operatori o sfide, ma altrimenti nessuna novità. Qui diciamo che Epidemia nel bene e nel male c'è un attimo aiutato, anche se Firebase per diverso tempo è stata l'unica app a zombie a round nuova, tra virgoletta, che dopo mesi non è più così nuova, da poter giocare assieme a D-Bashin. Questo poi in seguito ha portato Cold War ad avere un totale di ben 4 mappe a round, aggiungendo Mauer e Rinnegato, ma penso che tutti quanti si ricorderanno quel periodo appunto di Epidemia, che se non giocavi quello ma le mappe a round, avevi pochissima scelta, quindi o di Machine o Firebase, che ricordo per livellare le armi avrò giocato almeno, non lo so, 500-600 volte, e diventò molto molto pesante. In tutto questo non voglio togliere il fatto che la mia opinione al day one, o comunque i primi giorni di Firebase dopo tutti i tutorial, è sempre stata più o meno la stessa che ho anche oggi, nonostante come tutte le mappe magari quando sono nuove e appena uscite sono stupende e qualcosa di incredibile, poi col tempo magari ti puoi annoiare, o trovare quelli che sono magari i difetti principali. Per Firebase comunque c'è da considerare tutti i cambiamenti che Cold War ha ricevuto nel corso delle season, che fossero la vita degli zombie che è stata aumentata, quindi la rekaia non è più così efficace, tutti i problemi con Horda che diventò per un certo periodo immortale mentre prima lo distruggevi, e tante altre cose del genere, che un attimo più collegate per dire alle modifiche al gioco stesso e le patch, non la mappa in sé che comunque rimaneva pressoché identica. Tutte quante le ondate di assalto di difesa, i Mimic, i Laceranti, Horda appunto, la rekaia e tanto altro, continuano a farmi pensare che Firebase è una mappa veramente ben riuscita, e secondo me nella tier list che ho fatto ai tempi, subito dopo il lancio di Firebase, l'ho messa nel tier A, abbastanza in alto, poco sopra di Machine. Continuo a mantenere comunque questo voto, perché secondo me è un'ottima ottima mappa, e c'è tanto che comunque si può fare. Ripeto che sembra strano dire un anno, perché è tanto tempo, ma allo stesso tempo pochissimo tempo. Cold War è stato comunque un periodo che ho nerdato veramente tantissimo, e sono contento di tutti quanti i video che ho fatto, le streaming e tutti i contenuti che ho potuto portare, ma allo stesso tempo, vedendo un attimo come sta venendo strutturato Vanguard per la carenza di mappe a round, fa veramente strano parlare di Firebase, che è stata la prima giunta a Cold War più di un anno fa, a questo punto, praticamente un anno e due giorni precisi. Sicuramente non la mappa migliore in assoluto, per quanto riguarda Cold War, continuo a pensare che Mauer e Rinnegato siano la linea dello standard, per quanto riguarda mappe fatte veramente molto molto bene, ma anche in quel caso poteva essere un attimo l'hype per l'attesa di finalmente avere una mappa round. Mi ricordo con l'uscita Mauer è stata qualcosa di assurdo, ma per Firebase appunto l'attesa c'è stata, ma non in maniera così incredibile. Il problema è stato magari dopo, se inizialmente The Machine e Firebase sono mappe comunque nella media, non dico mediocre perché il termine è sbagliato, ma buone mappe, una volta che le giochi 100, 200, 500 volte e non sto scherzando con questi numeri, può diventare veramente pesantissimo e estremamente ripetitivo. Come oggi magari ci lamentiamo di The Run Fang o roba del genere, qualunque mappa round può incontrare circa lo stesso problema. Dico sempre che magari Kino, Ascension, Origins sono il mio tier S per quanto riguarda le mappe che preferisco, ma se me le fate giocare mille volte di seguito, a un certo punto comunque perdo la testa e dicono basta, voglio giocare qualcos'altro. È della comunità di avere così tante mappe e il problema che dico di Cold War che sono quattro che non sono comunque abbastanza, fossero state cinque o sei, sarebbe stato veramente perfetto, anche come ho detto prima per la distribuzione. Un conto è una mappa ogni season e mezzo, ogni due season ci può stare, ma quel buco gigantesco di tre season senza niente è stato davvero pesantissimo e le due mappe iniziali di Machine e Firebase ne hanno sicuramente risentito. Motivo per cui magari dico che preferisco Mauer e Rinnegato che sono sì mappe più complete con tante più cose, ma può essere anche quello che ho giocato tra rigolette di meno, perché tutto quanto il grind delle mimetiche, high round e livelli l'ho fatto principalmente su The Machine e Firebase e qualcosina in seguito su The Dops perché ero praticamente disperato del fare qualcosa di diverso. Dato che Vanguard sta seguendo una struttura diversa sia per i contenuti che per la sua distribuzione e anche altri problemi interni, sicuramente per lo sviluppo a Treyarch, spero che tutto quanto il feedback che hanno ricevuto durante Cold War per quanto riguarda come distribuire i contenuti per le season e altro possa essere magari in qualche modo riseguito su Cold 2023 per vedere mappe around magari più numerose e ben distribuite. Come sempre c'è il problema che le mappe around adesso contengono easter egg per la storia, tante armi e un botto di roba, per cui è sempre molto complicato riuscire a scrivere la storia e poi incastrarla nella mappa e farla uscire in un tempo decente. In aggiunta al fatto che i CDLC sono in realtà delle season distribuite gratuitamente con tempistiche diverse, continuo a pensare che anche per i prossimi zombie non vedremo un numero gigantesco di mappe alla Zombie Chronicles con Black Ops 3 che in tutto ci sono 14 mappe anche se l'è stato fatto in circa due anni e mezzo mentre per quanto riguarda i prossimi code 4 mappe ripeto che secondo me è troppo riduttivo 5 o 6 ma mi piacerebbe averne 7 o 8 ma anche 10.000 per quanto mi riguarda contando custom o simili ma è chiaro che realisticamente non si può parlare di così tante mappe e se comunque il livello è magari Firebase di Cold War che so che a tanti non è piaciuta purtroppo ma a me non è dispiaciuta affatto va bene alziamo un attimo la sticella per i contenuti e quello che si può fare e facciamo tante cose fatte bene se si può ovviamente quindi ragazzi ancora una volta un anno è tanto ma poco tempo completamente assieme quindi voglio sapere tutte quante le vostre opinioni per questa mappa se ancora oggi vi piace quanto avete nerdata magari al day one appena uscita e mi ricordo che tra la raccolta di informazioni tra la rechei che era bellissima tutti i tutorial mi sono divertito veramente tantissimo nuovamente l'unico problema è stata giocarla centinaia se non migliaia di volte perché era l'unica mappa nuova presente su Cold War per molto molto tempo il video qui ragazzi si conclude qui spero come sempre che questi video riguardanti i compleanni negli anniversari del mappe vi piacciono cerco non ripeterli troppo spesso anche perché alcune mappe che già ho fatto magari un video che è uscito dalla mappa 6-7 anni fa non ha senso ogni anno ripeterlo perché alla fine le cose da dire sono circa le stesse e difficilmente se è una mappa molto vecchia in un anno può cambiare drasticamente le cose da dire le opinioni o quello che un attimo si può fare su quella mappa a parte la nostalgia di volerci tornare se volete come sempre in descrizione trovate tutti quanti i link per i miei social tra cui Instagram Twitch e anche il canale Discord ci danno come sempre a un prossimo video un abbraccio Ava